Welcome to MiroTV Ragazzi siamo tornati qui per parlarvi Dell'ultima puntata di Monday Night Raw Sono in compagnia di The Queen of the World, mezza raffreddata E mezza no? E allora partiamo subito con il commentare La puntata così, con due tre parole Allora, secondo me, ripetitiva Scontata E pesante a certi punti Tu e te? Solo uno basta Ecco, per me è pesante Per questo, perché allora Troppa gente è tornata 5 persone in una puntata Iniziamo dal primo Naya Jax, anzi no scusate, Stephanie McMahon Naya Jax, Jojo, Bo Dallas Stiamo a Gio L'ho detto? Non mi ricordo Comunque sei Braun Strowman, in caso lo sei Comunque sono davvero tanti Troppi, troppi, troppi Non capisco il perché La fede abbia Abbia fatto questa cosa Quest'idea di rimettere tutti E sei in una puntata sola Perché stanno con le pezze al culo Ti hanno fatto capire che stanno con le pezze al culo Ma l'hanno fatto capire troppo evidentemente È quello che mi preoccupa a me Però una cosa che volevo dire È che so tornare tutto Sto proprio di gente È tornato Bo Dallas Lance, Jojo, Brie Whitehead senza niente E Romarin senza niente E beh, io direi che è anche giusto Perché se ci metti pure loro sarebbe stata una puntata di ritorno A parte sto video si chiama sicuramente la puntata di ritorno Comunque Alla fine sei persone so tante E io ragazzi ritorno di giuola Ho gestito diversamente proprio Ah sì, così, a cazzo di cane È entrato dopo il match femminile Quelle stavano ancora uscite Raga, ma perché? L'unico, ecco, ritorno che approvo È quello di Braun Strowman Che ci stava a farlo tornare così Alla fine ci stava Molto hollywoodiana come cosa È quello di Nia Jax Ma adesso direi di parlarne durante il video Che sennò qua Non ci cambiamo più una mazza Allora, partiamo con Come si è aperta la puntata Con il promo di Court Angle Il quale si è scusato con tutto il roster Per quanto è successo la settimana scorsa Proprio in quel momento Che lui stava dando le scuse È arrivata, tornata Stephanie McMahon Stephanie McMahon Incazzata nera con Angle Che lo ha minacciato Praticamente lo ha minacciato Perché ha detto Se tu A parte che lo ha messo addirittura Stephanie Quanto potere ha i McMahon Non si sa Cioè McMahon è tornata Boom Subito Angle deve essere capitano Del suo team Marovra su Barrio Series Ormai ci hanno preso gusto A vedere i combatte Court Angle Hanno detto Vabbè ha fatto bene Allora rimettiamocelo E se Court Angle perderà A me secondo me è una stranzata Insomma Dai ragazzi Ma perché Bo ha fatto un match Per colpa dei macelli Quindi all'ultimo momento Ma avrebbe combattuto E quindi adesso Devi rifornirlo Court Angle avrebbe ricombattuto Court Angle è un wrestling in salute Io non so perché David Lee l'ha presentato Come general manager Perché secondo me È un wrestling in salute Mo lo stanno a far passare Come vecchietto Ma secondo me È ancora un wrestling in salute Poi staremo a vedere Come si comporta su ring E tornando al segmento Se Court Angle perde Il match Su Barrio Series Verrà fatto fuori Dalla competenza Il general manager Però secondo me Non accadrà mai Questa cosa Perché a quel punto Court Angle O danno lo spoilerone Sulla vittoria di Raw Oppure Team di Raw Che poi non si sa È proprio chi ci sia ancora Perché allora Solo Court Angle Stanno annunciando Mentre dall'altra parte Già si sa Che ci sarà Randy Orton Domani sera ci sarà Kevin Owens contro Kevin Owens contro Shinsuke Nakamura Chi vinceva nel team Di SmackDown Stessa cosa Tra Ziggy e Ruth Là comunque Già c'è un'idea Bella che chiara Di qua Non si sa niente Ro non si sa proprio niente E a me questa cosa Preoccupa un pochettino Anche se sento La possibile area Di Roman Reigns In questo match Poi vedremo un po' Che si inventano Poi che è successo dopo Dopo ecco Parlando proprio di team Il team di Alicia Fox Ha un nuovo ingresso E che è quello di Naya Jax Naya Jax Che è stata ferma Per problemi familiari È tornata abbattuto Bayley in un match Niente di che Non mi aspettavo No ragazzi Diciamo va bene Il match annunciato Era Alicia Fox Contro Bayley Poi lei ha detto Eh io sono la capitana Delle Divas Quindi faccio un po' Come mi pare Quindi mando Naya Jax Contro Bayley Spesso Eh sì Bay Jax brava Sei forte Ti prendo nel mio team Sì Tristissima Tristissima La mia prima pic È bella Naya Jax Che gli ha fatto così Tu stai fuori da testa Però alla fine Naya Jax accetta Quindi è la prima componente Del team femminile A Smackdown Ci sta Becky Lynch Capitano E la cosa Mi fa pensare Che potremmo vedere Un team Smackdown Davvero molto forte Comunque mi aspetto Una Charlotte Nel team Smackdown Naomi brava Ci starà anche Carmela Secondo me Che non è che tengono Carmela L'altro per i primi fuori Sennò sarebbe proprio qualcosa Di scandaloso Io su questo Ci farei un pensiero Di tenerla fuori No Comunque è sempre Miss Money in the Bank Se tieni fuori Anche lei A super preview Sparale Poi che è successo Intervenuto giù Come dicevi volente Durante questo segmento Naya Jax e Alicia Fox Si stavano parlando Arriva Sammo giù Il pubblico Scoppia All'inizio fa finta Di fare un promo Da buono No in realtà Anch'io Sono rimasta sorpresa Perché l'effetto Se volevo dare L'effetto sorpresa Ci sono riusciti Perché è così A cazzo di cane Mi fai riusci Sammo giù Io mi sono sorpresa Però alla fine È stato brutto Però l'avevo già detto Che Sammo giù Stava tornando Sì 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 Perché si erano risvegliati Sui social Guardateli voi i social Sulla WWE Quando una persona è rotta Sparisce Non si sa più niente Quando inizia a tornare Inizia a postare Qualcosette Io ve l'avevo detto Infatti Settiamo Che già stava tornato E lui L'aveva detto Infatti è tornato Però un po' A cazzo di cane Beh a cazzo di cane Perché l'hanno mandato Poi contro Apollo Crew Adesso lo capire Manderete Apollo Crew Contro Sammo giù Con la vita O è stato tanto per Perché io spero Che Apollo Crew è diventato Jobber Io spero Jobber di tutti Spero che Sammo giù Entrerà a far parte Del team Io lo spero Ovviamente perché Sarebbe un grande acquisto Per il team Manderò Perché comunque C'è bisogno Che l'hanno fatto Torno a far Cioè ragazzi Se adesso non me lo metto In team L'hanno fatto Torno a per rivalità Con un coso Capolo che lo Sarebbe Scandaloso Poi allora Che abbiamo avuto Abbiamo avuto Dei segmenti Di The Miz Molto Molto lunghi Forse a volte Anche un po' Pesanti Che alla fine L'hanno fatto Sette segmenti Con The Miz Bo Dallas Curtis Axel E alla fine Il risultato pesante In cui Annocciavano Il ritorno Di Strowman La spazzatura Dentro il camerino Poi volevano Andar via E non riescono Andar via De Miz Che non ha Alleati Cioè la prima Prova a farsi Alleato Gain E ha detto Ma quale team Io te non ci chiamo Dimmi Poi è andato Saro Shimus E mi dato La stessa battuta Di Gain Anche lì Saro Shimus Si sono tolti Dalle scatole Con De Miz De Miz E quindi rimasto Niente solo Perché ragazzi Bo Dallas Curtis Axel Non sono Un team Che possono Coprire le spalle A De Miz Soprattutto contro Un mostro Soprattutto contro Strowman Quindi insomma Tutto sta chiedita Per riannunciare L'arrivo di Browse Roman Che alla fine Voraccio Ci ha ripesso Un sacco Il nostro povero Curtis Axel Che ha Incasato 5-6 Finisher Poverino A me A un certo punto Ha fatto un po' pena Dico Poverino Sì Abbiamo detto Quello che è successo Nel Menevente Però C'è da dire Che nel primo segmento Di De Miz C'è stato Lo scontro verbale Con Angle Che è un po' Rimproverato Dove eri tu Quando il team Smackdown Nella scorsa settimana Stava menando tutti Vero Quindi adesso Visto che non me l'ha detto Combatterai stasera Difenderai il titolo Stasera Contro Matardi Perché noi non avevamo annunciato Insomma Ha detto Chi c'ha a fare Matardi vai Hanno fatto un buonissimo match Sì No Molto Molto bello Matardi Forse è l'unico match Che mi ha preso Veramente in questo Sì Anche da Cesaro Da Cesaro e Baro Forse ci aspettavamo Un po' di più Aveva pure lì Mi hanno concesso poco Sì Ma pure la riva Nel senso L'hanno messo lì È stato a caso Comunque Come Cesaro Come Bailer contro Stiles È stato un match Buone prestazioni Però niente di che Senza una storyline dietro È difficilissimo Costruire un grande match Non c'è il pato Mizz ha difeso il titolo Contro Matardi Matardi E comunque si è presentato Abbastanza bene ragazzi Sono contento Per questa opportunità Però alla fine Era scontato Che Mizz vincesse Questo match Anche perché Si sfiderà Baron Corbin A Superbio Se cambiare così Le carte in tavola Sarebbe stata Un'enorma sciocchezza Angle poi ha anche punito Oltre di Mizz Ha punito anche Alexa Bliss Che la quale Si era spaventata Tutta fighetta No E ha detto Anche tu dove cazzarola Stavi mentre Il team Smackdown Invadeva Raw Settimana scorsa Non è vero C'era No no Non c'era Non c'era C'è stava Sasha Banks Mickie James Alicia Fox Era proprio sparita Alexa Bliss Insomma Angle era un po' Incazzato Si Anche perché Comunque è stato messo In condizioni Molto toste Da Stephanie McMahon C'è stava quel segmento Alexa Bliss ha difeso il titolo Nel main event E si sa come ha difeso il titolo Ha battuto Mickie James Un match e poca roba Meno Meno Dell'altra volta Dell'altra volta L'ho fatto Molto meno E è finito anche Secondo me Molto a cassa Si con uno schiaffo Raga Cioè Alexa Bliss Is the new big show No più che altro Con un punch alla big show E questo secondo me Non rende Perché Alexa è molto minuto Cioè in senso Molto piccola Rispetto alla Mickie James Che comunque Mi è già compiazzato Vabbè insomma Mi è piaciuto per niente Questa cosa Però ci stava l'idea Di Angle Che mi improverasse questi lottatori Che sono spariti Durante l'invasione di SmackDown Entriamo ancora di più Nell'anonimato Allora Asuka È andata a combattere Contro una Jobber Che non si sa Dove cazzo Uno di quei match Tipo che faceva Ryback No non so se tu lo ricordi Prendevano gente a caso E facevano combattere Contro questi personaggi qua Perché Cioè Ok che Emma Ragazzi Abbiamo fatto anche un video È stata licenzia da tutto Mi invito a guardarlo Il video di Emma A questo punto Sei andata a piano Jobber Tieni di Emma Tieni di Emma Ma perché Perché tutto questa cosa Che vogliono fare Asuka Io ho ancora Ho tanti dubbi Che raggi una rivalità Fai qualcosa Cioè voglio dire Boh Hanno lasciato Sasha Banks fuori Sasha Banks fuori dalla guarda Perché A questo punto Fala Mandala contro Sasha Banks Cazzarola Come fai a non pensare Ci mandi una Jobber Perché A che serve la vittoria di Asuka Contro una Jobber Quando Asuka non perde Da 550 È ovvio che non perde Contro una Jobber Ti pare che perde Contro una Jobber Ragazzi Dico Asuka È stato a fare un po' Come Bobby Roode Se sa che devono fare Poi alla fine Bobby Roode Si sono ripresi Ma dopo Dopo quanto Si sono ripresi E ma non possono fare sempre così Perché poi la gente Sono un po' i coglioni A me Asuka Già mi sta sui coglioni Ve lo dico Cioè Non mi piace Non me la fate piacere Punto Così Non mi Non mi fate piacere Asuka Assolutamente Assolutamente Poi parlando di Visto Ne abbiamo parlato poco prima Bello Contro Ah si Cesarro Ragazzi È stato un match Fatto tanto per Se vedeva che comunque Doveva succedere qualcosa Dopo il match Infatti Il match è stato Poca roba Da due mostri Sagri del genere Mi aspetto molto di più Ovviamente Mostri sagri Forse esagerati Però sono buonissimi atleti Buoni atleti Mi aspetto un match Molto migliore Però ecco Era tutto un po' stato Per Kane Raga Questo l'avevo già capito Era tutto un po' stato Perché Infatti Kane È intervenuto Dopo la vittoria di Baylor Lo bello che stava andando Che stava per tornare Nel backstage Arriva Kane Che sullo stage Gli fa la Tom Stone Power Driver E lo stand a terra Pure qua Dovevo capire Perché hanno mandato Baylor Come capito E spero Per Kane Perché raga C'è uno che ha uno status Del genere Lo voglio fargli Fai battere a Jay Stiles Voglio che me lo mandi contro Lesnar Che lo inizi a caricare contro Lesnar Non che mi fai perdere contro Kane Che non c'ha bisogno L'hanno mandato come primo match Contro Kane Quindi che fai io per perdere No l'ha vinto Ma nel 2017 Adesso di nuovo contro Ma nel 2017 Secondo te Kane Ha bisogno di un push Kane Che ha 45 anni Ha bisogno di un push Poi tutto io C'ho un rispetto enorme Per Kane Per la carità che ha fatto Kane Però raga C'è bisogno pure adesso Che i nuovi elevi Mi mandano avanti Non che gli fanno Prendere pizze da Kane Cioè gli hanno dato Un anno fa Il titolo a Baylor L'ha perso per un infortunio Ancora non gli stanno dando La possibilità di Riprendersi il titolo Lo strapusciano E poi Niente Cioè io sta pushata enorme La vedevo per poi Magari Non contro Brock Lesnar Ma magari Un cambio titolo da Brock Lesnar E poi Ridare Questo cazzo di rematch A sto poi Rob Baylor Che sto titolo Non l'ha mai verso Ma se sei infortunato Che fai? Me lo depusci Con tutte le persone Che ci stanno in WWE Perché non è che Dici Stamon 4 Ma andagli du jobber Ma andagli qualche scartina Ma non mi fa così Non c'è senso Poi dice La gente si incazza Sì Però sta andando malissimo In questo perso Io mi arrabbio Soprattutto perché Kane Poi ha anche battuto Seth Rollins In una maniera Caricatissima Si è visto proprio Che Rollins Doveva perdere Perché si è lanciato Dalle corde Malissimo Si Si vedeva che doveva Prendere forza Shock Slam Poi Kane C'ha sta brutta cosa Che quando ti afferra Per il collo Ci sta 3-4 secondi E raga La passa tutto il tempo Perché un Rollins Sveglio La se ne va Invece no Rimasto così Con sta mano sul collo Shock Slam 1-2-3 E un'altra grazia Si poi c'erano Cesare e Scimus Insomma A Bordoling Che hanno un po' Tenuto Embrose Però niente di che Ragazzi Niente di che Stanno a far passare Kane come una macchina Distruttrice No Si Cesare e Scimus Non sono del vilipo Niente Perché alla fine Ha vinto Kane Davvero Ci sono rimasto Malissimo Stanno lanciando Shock Slam A tutti Tom Stanno a tutti Così Ok che andrà Contro Strowman Ma che Cioè Perché gli devi dare Tutta sacribilità Contro gente Che si staffa Un mazzo Così Sì Appunto Appunto Cioè Braun Strowman Ragazzi Torniamo a parlarne Torniamo a parlare Si è fatto un mazzo Così Strowman Prima contro Contro Roman Reigns Con le storie Dell'ambulanza Sei mesi Sono durati Madonna Ma si è fatto un mazzo Tante perché Ha fatto tante cose Ha fatto tante cose Ma poi era Roman Reigns Che sto assolutamente Aveva Vabbè Mui infortunato Quindi lascio stare Aveva fatto tantissimo Contro Roman Reigns L'avete mandato Strapusciato Contro Lester E non gli avete fatto Prende gioie là Poi Arriva Bross Roman Che gli fate fare Quattro match Del cazzo Ma del cazzo Con persone Che stanno Strapusciate Perché Scusa Che ho detto Bross Roman Kane Fatto quattro match Con persone Che stanno Strapusciate Come Finn Balor Che si stanno Facendo il culo Da mesi Per costruire Un buon personaggio Avete L'avete mandato Contro I Di Nembrose E Seth Rollins Che hanno la cintura Stanno facendo ottimi match Se la so guadagnata Sta cintura Per farli perdere tutti Contro Kane Che è appena arrivato Per Che cosa Cosa O si vogliono giocare La carta del ritiro Una volta per tutto Di Kane Con Strowan Che sarà il suo Il suo tizio Che farà terminare La carriera di Kane Con Kane Che metterà in ballo La sua carriera Sì vabbè Ma non con queste persone Cioè allora Fagli fare il match Contro Cesaro e Scimus Che adesso Non stanno brillando Non ammazzare Seth Rollins E Di Nembrose Non se lo merita Non ammazzare Finn Balor Che non se lo merita Direi di passare ad altro Se no qua Siamo troppo a lungo Sui discorsi Che secondo me Prostima settimana Vedremo Né più A questo punto Però che fanno Roman Reigns Fanno ritira Undertaker Brostrowan Brostrowan Kane Cioè No ma la mia È una supposizione Non lo so Poi che abbiamo Abbiamo avuto Dei scempi enormi Allora da parte Abbiamo Slider e Rhino Contro No io Io l'avevo già dimosso Raga Scusatemi Tattetito Rimuoviamo Non ne parliamo Cioè ragazzi Anna Dobbato Il match Per tutto Halloween Poi mi ci mettono Un Rhino Vestito da Babba Natala Tutto truccato Inguardabili Un match Inguardabili Sembrava davvero I pagliacci Cioè stavano Luke Gallos Americanare Che si mettevano La testa Che al contrario Inizia a fare Cioè Raga Ma lo spettacolo Quei bambini Lo spettacolo Quei bambini Ne ne parliamo Che se no No raga Inguardabili Facciamo lo share loro Basta Ragazzi no No Poi abbiamo avuto Il segmento di Elias No Ma ancora quello No 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 quello si No ragazzi Inguardabili La cosa più brutta Di questo show Di sempre Elias Che come al solito Fa il suo grande promo Ecco Però poi arriva Jason Jordan Un Jason Jordan Che ha un po' ripreso Dall'infortunio Ecco Che alla fine Gli ha dato Cioè Gli ha fatto C'è un grande livido Qua È un po' scuro De pelle Forse si è visto poco Però si vedeva Sto Si 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 vedeva Ragazzi Insomma Non hanno fatto il match Però è semplicemente Arrivato A Jason Jordan E questa volta Gli ha spaccato La Gitarra Da notare Elias Che più poco Non si metteva a piangere Quando settimana scorsa C'era voluto Sì esatto Cioè questa cosa Non l'ho capita Allora Lui Ci so Che Elias diceva Guarda hai rotto Un mio ricordo Diceva My memories Ci so Ma Scusami Spacca lui Le chitarre Ma se l'hai rotta tu L'altra sera Che cazzo di memoria È sta chitarra Cioè Ci poteva stare Insomma Che ti incazzavi Però non Che facevi Tutta sta tragedia Della memoria Come Non lo so Ti ricordi Tanti anni Cioè Un annetto e mezzo fa Quando Bray Wyatt C'era la sedia La sedia a dondolo Che gli erano bruciata Lui si è disperato Ma non che È morto È Ma non è che la settimana prima L'ha spaccata la sedia Ci capiamo Anzi È una cosa sagra È una cosa sagra Per lui la sedia Poi le sedie sono sparite Quindi mi ci sta Un segmento del genere Che Jason Jordan Gli spacca La nuova Chi rara Ma lui che si dispera Ma lui che si dispera No quello non mi è piaciuto Infatti tipo stavo così Fino che E poi Mi è sparito tutto Bruttissimo Anche questo Sì È un po' peccato Elias Voglio dire Roro Molto da bocciare Secondo me Molto molto E anche da bocciare Ragazzi L'ultima cosa Di cui parleremo La Cruz Su Guardi Vision Questa settimana Allora mi hanno mandato Gulak Si chiama così O Gola Gulak Contro Calisto Tutto questo per far Quattro secondi Quattro secondi Calisto ci ha messo Giusto un minuto A battere Poi è arrivato Enzamore Una cosa molto scontata L'ha attaccato Però ragazzi No Sì vabbè Ma stai continuando A pushare Gente come Gulak Comunque Tutto il team di Enzo Cioè Me lo fai vedere E mi lasci fuori Gente come Alexander Che ho Alexander è il del FIFA 18 No come si chiama quello Seric Alexander Vabbè quello Che comunque Sul ring è bravo Rix1 Che comunque Sul ring è bravo Gallagher Che sul ring è bravo TJP sparito Dove è finito il TJP Che comunque era bravo Torzawa Gli hai dato il titolo Cioè Almeno su Enzamore Mettimici Torzawa Oppure nel team di Calisto Mettimici Torzawa Me ci mette Gran Metalik Regà Ma porco due Ma poi dici Che uno Uno si deve incazzare Ma sono amici Ma poi dici La cruiserweight Non funziona Ho capito Ma andate avanti pure Persone che sul ring Non sanno manco Come è fatto Cioè Ragazzi Il team di Enzamore Chiamiamolo il team Di Enzamore Che manco Come cazzo si chiamano Ma fanno pena Ma manco i jobber So così Ma manco i jobber Eppure Eppure gente che sta Sul ring C'è sta Poga Niente di che Però c'è sta Già un rich suono E' più bravo E si si assolutamente Perché mi continui a mandare Quella gente lì E quell'altra Che magari Si meriterebbe Un po' di più Diciamo però Rosso sbagliando Un po' i push ultimamente Dai possiamo dirlo Da Kane Allo stesso Gulak Forse Forse Però non lo so Anche Mickie James Dopo la sconfitta Contro Alexa Bliss Che è Arrivata pompatissima No perché io sono Sei volte la campionessa De qua e de là E me la fai perdere Due volte Ma come cazzo Ci stai con la testa Ma allora Non c'hai divas Non c'hai mezza divas No c'è l'anno Scusami Allora Diceva Alicia Fox Non hai combattuto Con Baby Vai a combatte Con Alexa Per titolo Tanto a perde Non lo perdeva Perché comunque La card di Survivor Series Era quella Non lo perdeva Allora manda c'è Alicia Non invece manda Mickie James Che ha perso La settimana prima Cioè Chiudiamo il video Con un'ultima notizia Una nuova Strabiliante Chiaramente la notizia è bella Mi finisco di incazzare Ecco E' partita La nuova GM Mutu Su David David UK18 Il primo video Lo trovate Sul suo canale In descrizione È iniziato È lungo È lungo ragazzi Ve lo dico Mettetevi dei comodi Mettetevi un po' di popcorn Stiamo andando benissimo Ha già accolto Molte cose positive Molti commenti Tanti iscritti nuovi Tanti commenti Siamo contentissimi Di questa cosa Siamo eccitati Di portarvi Le prime puntate Per chi non la sapesse Glielo dici tu In due secondi Che cos'è No beh Diglielo tu Visto che Ah glielo dico in due secondi Il video lo troveranno Comunque qualche parte Sì sì L'abbiamo detto anche Nel video di Emma Insomma noi lo diciamo Perché ci tiriamo tantissimo È la GM Mutu La General Manager Mod In cui Io avrò Lo show di Smackdown Lui avrà Lo show di Di Raw Show che non sono Che non rispecchiano La realtà Perché appunto Sul mio canale Trovate il draft casuale Quindi abbiamo ricreato Gli show da zero Da zero casualmente E insomma Io sul mio canale Inventerò Il mio show Con le mie rivalità Lui sul suo canale Inventerà il suo show Con le sue rivalità E cercheremo di dare In un senso Certo non sarà una Non descenderemo Totalmente noi Perché comunque Gran parte Ce la metterà il pc Perché non è una modalità Ufficiale Ancora l'abbiamo registrata Dito questo È tutto tu Il video lo troverai In qualche parte Noi ci salutiamo Da E da Miro È tutto Ciao belli